Che cos'è? Pussi Pussi? Ah sì! Vediamo un po' se te lo dà, Luciano, fai un po' vedere se te lo dà, va un po' là piano piano con la mano. No, che è un matto. Dai, dai, se te da Pussi Pussi, il giocato no. Dai, prova, dai che sto riprendo, vai, vai. Vai, vai. Dai, dai, va. Basta! Dai, vai, parlo, 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 parlo. Ma no, non è questa, però. Ho messo a marcia, hai sentito? Ho messo in marcia, hai sentito? Ho messo in idosso. Come fa? Come fa, Pussi Pussi? Facci a sentire come fa, il rumore. Dai, dai, facci a sentire il rumore. Come fa, Pussi Pussi? Il rumore, però. Trovalo, dai. Eccolo, bravo! Facci a sentire come fa? Come fa? Sai, come fa? Facci a sentire come fa? Sai, come fa? Come fa? Come fa? Come fa? Bravo! 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 Bravissimo! Bravissimo! Basta! Bravissimo! Tanta! Ti dici che! Anghe! 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 a a a a a